Gestione delle linee ferroviarie locali. La provincia punta sulla co-abitazione tra SAD e Trenitalia. Come ha evidenziato l'assessore provinciale Florian Musner, quella individuata è la soluzione migliore per qualità dei servizi e risparmio in termini di costi. La gestione delle linee ferroviarie e locali dovrebbe seguire la formula della co-abitazione tra SAD e Trenitalia in un'ottica di utilizzo efficiente del nuovo materiale rotabile, di un servizio migliore da offrire ai passeggeri e di un ampliamento dei collegamenti diretti all'interno sia dei confini provinciali sia dell'euregio. Siamo convinti che la tendenza è quella di suddividere i servizi su entrambe le società, anche perché questo comporta non solamente un beneficio degli utenti tramite la concorrenza, ma anche perché da un lato abbiamo già un contratto con Trenitalia e pertanto ci sembra giusto cercare in sintonia di promuovere questo servizio con le due imprese. Questa soluzione porterà ad un risparmio di 2 milioni e 400 mila euro grazie al fatto che si potranno acquistare due treni in meno rispetto al previsto, cioè sette convogli anziché nove nell'ambito dell'elettrificazione della linea della Val Venosta. Cambiamo argomento, i giovani medici con formazione specifica svolta in Alto Adige e attestato di bilinguismo potranno contare su una identità aggiuntiva, uno stimolo per convincere le nuove leve a svolgere in Alto Adige la formazione specifica in medicina generale e la formazione medica specialistica. Ci saranno 450 euro lordi in più per questi studenti, anche questo per rendere più appetibile la nostra azienda sanitaria per questi studenti. Per ragioni legate all'ecologia, al traffico e ragioni socio-economiche, la Giunta Provinciale ha respinto la proposta di ampliamento dell'area scistica di Casterrotto e il suo collegamento con l'Alpe di Siusi. Anche se non prescritto dalla legge, non ha partecipato al voto in Giunta il presidente Arno Compaccer, che in passato era stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore della società che gestisce l'impianto di risalita per l'Alpe di Siusi tra il 2004 e il 2013.